Io ho fatto una scelta in funzione a valutato tecnicamente la concorrenza. Dopo, avendo anche un buon rapporto con il concessionario, ho preso la macchina. A livello dei trattori sono stati di ottima, di buonissima qualità. La Catana ha rispettato la qualità dei trattori, forse anche superiore, come rifiniture, in certi casi come accorgimenti. La macchina, io la utilizzo circa il 50% dei miei clienti a pastone e l'altro 50% a ceroso. Rispetto alla concorrenza, il taglio e la qualità di lavoro è eccezionale. Ho un'esperienza, diciamo, dal 1970 a livello di pastone e ho visto che con gli anni, con l'esperienza, questa è stata una macchina che mi ha dato soddisfazione perché provenivo da un altro marchio. Pertanto la praticità di togliere e trasformare la macchina a pastone è molto semplice. Io faccio anche il trattamento dei latobacilli e hanno applicato una pompetta che è un controllo elettronico del posto guida, della gabina, sicché posso vedere e fare una variazione in base al tipo di cliente, quanto ne vuole buttare più o meno. E lì è molto precisa. Il motore è ottimo, lo senti molto lineare e mi ha dato delle grosse soddisfazioni in quanto anche, sentendo la concorrenza, i miei colleghi che hanno macchine di marchio diverse, i consumi sono molto, molto limitati. Sono arrivato a 145-150 litri ora, contro, non vorrei esagerare, anche 250 della concorrenza. Questa è la macchina più economica a parità di cavalli della concorrenza. Questa è la macchina più economica a parità di cavalli della concorrenza. Grazie a tutti